Ho le emozioni, ho le nuove tecnologie, non rientro con l'unico, non riusciamo a risposta. E' questo che creiamo, per cambiare il modo di guidare, non mi piace di fare un futuro per la nostra storia. E' questo che creiamo, per cambiare il modo di guidare, non riusciamo a risposta. E' questo che creiamo, per cambiare il basetto, è un bicicletto perfetto. Supera un'aspettativa, supera il caldo di bellezza, con il fascino e la sua sensualità. Supera tutte le altre, ha carattere, supera ogni prova, supera anche se stessa. Nuova Giulietta Super 1400, 120 cavalli turbo, completa di tutto. Sui new carnet 5 tonici, clima automatico di un'azienda, c'è il rega da 17 e più scontrolli.